Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con l'Utiginus 24, edizione delle 12. Apriamo con un lutto nel mondo dell'industria friulana. E' morto questa mattina ad Osoppo, all'età di 91 anni, il cavalier Marco Fantoni, nato a Gemona nel 1930. Fantoni è stato il fondatore e l'anima della Fantoni S.P.A., azienda leader a livello internazionale per la produzione di mobili da ufficio ed altri lavorati in legno. A febbraio aveva perso la moglie Alessandra De Antoni, lascia i figli Giovanni e Paolo, a cui va il cordoglio di Udinese TV. Ha fatto la storia del friuli industriale e con lui viene a mancare un altro rappresentante di quella generazione di imprenditori, che con grande sacrificio e altruismo ha fatto grande il nostro territorio, contribuendo alla sua rinascita post-terremoto e alla sua indiscussa affermazione sui mercati mondiali. Così Anna Mareschi Danieri, presidente di Confindustria Udine, ha ricordato il cavalier Fantoni in una nota diramata da Confindustria. E adesso andiamo alle ultime notizie che arrivano dalle agenzie, la gestione della pandemia, ma non solo perché c'è un'ultima ora che riguarda le indagini sulla scomparsa di Saman. Il cugino interrogato dal GIP non ha risposto, ha fatto delle dichiarazioni spontanee in cui ha affermato di non avere nulla a che fare con la sua sparizione. Il Cam Iliaz, cugino di Saman Abbas, si è detto estraneo alla sparizione della ragazza. Lo ha spiegato l'avvocato Domenico Noris Bucchi al termine dell'interrogatorio di garanzia, nel quale il pakistano si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto alcune dichiarazioni spontanee, ha dichiarato di non avere nulla a che vedere con la sparizione della ragazza, ha manifestato l'intenzione di rendere dichiarazioni più approfondite al pubblico ministero nei prossimi giorni, dopo un ulteriore confronto con i suoi difensori. Sul fronte invece della pandemia andiamo sulla prima pagina. Si parla della bozza di monitoraggio con i dati in corso di esame da parte dell'Istituto Superiore della Sanità, del Ministero della Salute, del Comitato Tecnico Scientifico, dati dai quali poi verranno emesse le ordinanze del Ministro Speranza, con altre regioni che passeranno in zona bianca oltre a quelle che già lo sono. Per quanto riguarda l'incidenza dei casi, andiamo a leggere una nota che esamina dei dati, che fornisce dei dati che sono più avanti rispetto a quelli del monitoraggio, che come sapete si riferiscono alla settimana precedente a quelle in cui vengono analizzati i dati. Mentre vediamo la mappa con l'ultimo bilancio della giornata di ieri, vi diciamo che l'incidenza a sette giorni per il periodo di riferimento 4-10 giugno, quindi questi sono dati aggiornati a ieri, è di 25 casi di Covid ogni 100.000 abitanti. Il valore è uno fra i più importanti indicatori decisionali per le eventuali misure di contenimento. Continua quindi a scendere la circolazione del virus. La scheda sugli indicatori decisionali contiene anche le percentuali sull'occupazione dei posti letto negli ospedali. I valori si attestano all'8% sia per le aree non critiche che per le terapie intensive. Entrambi i dati sono aggiornati all'8 giugno, quindi dati aggiornatissimi, ancora una volta dati che ci dicono come lentamente ci stiamo mettendo l'emergenza alle spalle, sperando poi che dopo l'estate non si torni di nuovo a parlare di emergenza negli ospedali, di contagi in aumento, in aumento esponenziale, perché senz'altro ci sarà un aumento dei contagi, ma bisognerà tenere sotto controllo quelli che sono i parametri di affollamento nei reparti ospedalieri per capire se davvero avremo messo alle spalle definitivamente il Covid-19 o quantomeno se saremmo in grado di controllarlo e di considerarlo endemico e non più una pandemia. Adesso vediamo un servizio dell'agenzia ANSA che riassume quello che potrebbe succedere dalla prossima settimana in poi in relazione alle ulteriori regioni che passeranno in zona bianca, ma anche al Green Covid Pass. Più della metà del paese in zona bianca da lunedì, la corsa dell'Italia alla riapertura prosegue e presto sarà supportata dal Green Pass il certificato digitale Covid che darà accesso a viaggi, cerimonie e probabilmente altri eventi e attività. Ma sul documento, rilasciato gratuitamente dal 1 luglio dalle autorità nazionali in formato digitale o cartaceo con un QR code, restano una serie di dubbi sollevati dal garante della privacy. Nonostante l'autority abbia dato parere favorevole sullo schema di decreto attuativo che attiva la piattaforma nazionale su cui appoggerà il sistema del certificato, ne è stato autorizzato l'utilizzo attraverso Immuni, l'app già utilizzata per il tracciamento dei contagi, ma chiesto il rinvio dell'impiego di Io, la stessa già usata per il cashback, proprio a causa di criticità sul trattamento dei dati personali. Non si tratta però dell'unica questione tirata in ballo dal garante, il quale chiede chiarezza sulle finalità per le quali potrà essere richiesto il Green Pass ed individuare, in vista della conversione in legge del decreto, i casi in cui può essere chiesto all'interessato di esibire la certificazione verde per accedere a luoghi o locali. C'è poi il tema delle verifiche. Dovrà essere stabilito chi saranno i soggetti deputati ai controlli delle certificazioni verdi e sarà garantito inoltre che i verificatori possano conoscere solo le generalità dell'interessato, senza visualizzare altre informazioni presenti nella certificazione. E adesso parliamo invece dei vaccini perché nonostante si stia procedendo ad un ritmo abbastanza veloce con l'Italia che ha superato ormai le 40 milioni di dosi somministrate dato della giornata di oggi, secondo l'OMS l'Unione Europea nel suo complesso è ancora in ritardo il servizio. Le vaccinazioni procedono ma l'Europa, ancora lontana dall'immunità, non deve fare passi falsi ripetendo gli errori della scorsa estate. Attenzione quindi a troppi allentamenti su viaggi, vacanze e fenomeni di massa come gli europei di calcio che potrebbero innescare nuove fiammate del virus. L'allarme a pello è arrivato dall'OMS ma anche dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie mentre la Presidente dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, annunciava che oltre il 50% degli europei ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino e 100 milioni di europei sono completamente vaccinati. Parlando di progressi verso l'obiettivo di vaccinare il 70% degli adulti nell'Unione Europea entro il prossimo mese. Un risultato importante ma non sufficiente ha ribattuto l'OMS sottolineando che la distanza da percorrere prima di raggiungere almeno l'80% di copertura della popolazione adulta è ancora considerevole. Bisogna stare attenti a non ripetere l'errore della scorsa estate quando le misure sono state allentate prematuramente e ha incalzato il Direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nelle stesse ore anche il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha ribadito che siamo lontani dall'immunità invitando alla prudenza. L'ultimo rapporto sulla valutazione del rischio Covid parla chiaro e sebbene rilevi un calo dei dati sull'epidemia sottolinea che l'emergenza e la diffusione delle varianti richiedono forti misure di sorveglianza in particolare per i viaggi extra-Unione Europea. Sul Green Covid Pass arriva anche una dichiarazione del Ministro degli Esteri Di Maio l'introduzione del certificato digitale Covid sarà uno strumento essenziale per la ripartenza dopo l'emergenza sanitaria. Quanto ha affermato il Ministro Di Maio alla terza edizione del Forum Economico Italo-Francese la sua rapida attuazione permetterà di soddisfare le aspettative dei nostri cittadini in vista del periodo estivo, ha aggiunto affermando che è necessario tutelare la salute pubblica e creare le condizioni per viaggiare in condizioni di sicurezza mantenendo comunque la possibilità di adottare misure sanitarie nazionali urgenti naturalmente soltanto in caso di effettiva necessità. Adesso chiudiamo la pagina sul Covid ancora con un servizio dell'ANSA in cui si parla dell'anno nero del Covid con un aumento di decessi che non ha uguali rispetto agli anni precedenti, anche parecchi anni indietro. Vediamo. Quasi 750.000 vittime complessive, 100.000 in più rispetto alla media dell'ultimo quinquennio. Sono i dati impietosi del 2020, anno nero del Covid, con la pandemia che ha fatto schizzare il numero dei morti come mai era accaduto dal secondo dopoguerra in poi. Il giorno più buio è quello del 28 marzo 2020, quando il bollettino fece segnare il picco dei decessi, 928, lo stesso mese in cui il mondo partecipava al dolore dell'Italia davanti alle immagini dei camion dell'esercito con le barre di Bergamo. Il nuovo rapporto pubblicato da Istat e Istituto Superiore di Sanità però porta anche una luce di speranza legata ai vaccini che hanno letteralmente demolito il rischio di morte da Covid, con un crollo addirittura del 95% dopo poco meno di due mesi dalla prima dose. A confermare il trend arrivano anche i dati della Fondazione Gimbe che evidenziano un crollo dei ricoveri, meno 84%, dal picco del 6 aprile. Il sesso rapporto sull'incidenza della pandemia in Italia registra nel 2020 un aumento del 9% della mortalità rispetto alla media del quinquennio 2015-2019. Il Covid, secondo quanto rilevato dal dossier, ha un impatto maggiore tra gli uomini e aumenta la mortalità in particolare sulla fascia di età 65-79 anni, dove un decesso su 5 è attribuibile proprio al virus. E adesso spostiamoci ad Udine dove siamo in diretta collegati con Francesca Santoro per parlare di una iniziativa di protesta per sensibilizzare, più che per protestare, per sensibilizzare per quanto riguarda il discorso delle menze scolastiche. Sapete che ci sono state delle polemiche sulla qualità del cibo. Allora andiamo a sentire Francesca che si trova proprio con una delle organizzatrici di questo incontro in piazza del Lionello ad Udine. Buongiorno Francesca. Buongiorno Francesco, con noi Yasmin Damiano, portavoce in questo momento del comitato di protesta a genitori che manifestano contro i disservizi che si sono verificati nel servizio menze in 11 scuole elementari e medie di Udine. In questo momento una parte della delegazione di genitori è stata chiamata dal sindaco Fontanini quindi sta parlando, speriamo che ottengano qualcosa. Quali sono i disservizi che avete riscontrato quest'anno? I disservizi sono tanti perché ci sono state pietanze scarse, abbiamo riscontrato dei corpi estranei dentro i piatti, le temperature inadeguate. Sarebbe da fare davvero una lista lunga per rilevare tutte le problematiche che abbiamo riscontrato da ottobre ad oggi e non siamo mai stati ascoltati da nessuno. Un servizio che i genitori pagano peraltro? E anche caro perché mi viene da dire va bene, va in base all'ISEE però lo paghiamo caro e mia figlia ad esempio torna a casa e mi dice che ha mangiato un panino o ha mangiato delle carote, per 4,70 euro anche no. Cosa avete fatto durante l'anno per manifestare il vostro disappunto? Assieme alla Commissione Mense abbiamo fatto i sopralluoghi e abbiamo inviato le mail con i verbali, con tanto di appunto la mail e le fotografie ma non siamo mai stati ascoltati, non è mai cambiato nulla e comunque tutto quello che deve essere letto è scritto, è chiaro ed è stato inviato al Comune. Avete promosso anche una raccolta firme tra i genitori? Sì, questa è una cosa che non ho fatto io però sì e abbiamo tirato su dalle 400 alle 500 firme. La vostra speranza qual è? Che oggi il sindaco cosa vi dica? Che finalmente ci ascolti e che le cose possano cambiare, non è per forza che deve cambiare la ditta, noi vogliamo la qualità, che i nostri bambini ricevano un pasto adeguato, non chiediamo nient'altro. Grazie allora Yasmin, a te Francesco. Grazie, grazie a Francesca Santoro, abbiamo raccolto anche altre interviste che vi mostreremo nei telegiornali di questo pomeriggio e stasera su questo argomento che sicuramente è un argomento importante che riguarda i bambini che a scuola soffriscono del servizio a mezzo, la qualità ma anche le modalità di somministrazione dei pasti a scuola. Adesso parliamo di lavori sulla A4 con il nodo di Palmanova che in questi giorni sarà interessato da nuovi lavori e dunque nuove interruzioni. È lo sprint finale del cantiere della terza corsia dell'A4, della tratta Gonars, nodo di Palmanova. In questi giorni si sta concludendo la stesa dell'asfalto drenante sulla careggiata ovest, ovvero quella in direzione Venezia. Questo intervento viene effettuato a traffico aperto e a scacchiera, ovvero lasciando sempre attive due delle tre corsie di marcia, attivando in alcuni casi gli scambi di carreggiata. Adesso i lavori si concentreranno sulle rampe di intersezione dell'A4 con l'A23 e quindi alla confluenza delle varie direttrici da e verso Udine, Tarvisio, Venezia e Trieste. In questo caso per la sicurezza degli utenti e delle stesse maestranze sarà necessario in determinate circostanze e fasce orarie precludere la circolazione ai veicoli e ai mezzi pesanti. La prima direttrice a essere interessata da questo lavoro sarà la Trieste Udine del nodo di Palmanova. A partire dalle ore 5 alle ore 15 di domenica 13 giugno, chi proviene da Trieste ed è diretto a Udine dovrà uscire al casello di Palmanova e riprendere la A23 a Udine Sud oppure uscire al casello di San Giorgio, rientrare allo stesso casello, rimettersi in A4 in direzione Trieste e deviare in A23. Nei prossimi giorni i cantieri di stesa dell'asfalto drenante e di rifacimento della segnalettica riguarderanno la carreggiata sud della A23 in prossimità sempre del nodo di Palmanova e le confluenze che da Udine e Venezia conducono a Trieste. Per maggiori informazioni il sito di Autovie Venete infoviaggiando.it è sicuramente utile per comprendere bene soprattutto gli orari di apertura e chiusura dei vari tratti e le deviazioni, gli itinerari alternativi. Adesso una notizia di cronaca, andiamo sul sito di udinesetv.it, vi mostriamo questa notizia che è arrivata poco fa, falso, made in Italy, sequestrati più di 1000 capi di abbigliamento all'autoporto di Fernetti. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'ufficio delle Dogane di Fernetti, hanno effettuato un sequestro di 1370 capi di abbigliamento sportivo recanti un falso, made in Italy. L'operazione è condotta in stretta sinergia operativa con un'attenta procedura di preventiva selezione e riscontro della merce in transito presso l'autoporto ha reso possibile individuare i capi di abbigliamento recanti e la falsa dicitura. I beni provenienti dalla Serbia erano diretti in Italia ad una società detentrice di un noto brand italiano di articoli di abbigliamento sportivo che sul proprio sito internet si pubblicizzava come realtà completamente made in Italy mentre la merce arrivava dalla Serbia. Quindi importante operazione all'autoporto di Fernetti. Cambiamo argomento, adesso passiamo ad argomenti più leggeri perché in concomitanza con la festa delle erbe che è una tradizione culturale e storica di Forni di Sopra, da quest'anno si adecchisce con nuove attività e tra queste c'è l'iniziativa lanciata da Poste Italiane in collaborazione con la rete di imprese Dolomiti in tutti i sensi e il comune di Forni di Sopra. Forni di Sopra è stato scelto da Poste Italiane per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legate alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. In occasione della festa delle erbe domenica 13 giugno dalle 10.30 alle 14.30 nel centro visite del parco comunale delle Dolomiti friulane in via Vittorio Veneto 1 verrà attivato un servizio filatelico temporaneo con la cartolina dedicata presso il quale sarà possibile acquistare e spedire la stessa. L'organizzazione di queste iniziative è della rete di imprese Dolomiti in tutti i sensi con il patrocinio del comune di Forni di Sopra. Apriamo la pagina sportiva, lo facciamo con le immagini che arrivano da Roma dove questa mattina è stato inaugurato lo UEFA Festival con un simbolico taglio del nastro in Piazza del Popolo alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi del commissario straordinario UEFA Euro 2020 di Roma Daniele Frongia del presidente della federazione italiana gioco calcio Gabriele Gravina e del CEO di UEFA Events Martin Callen. Oggi è la prima giornata di un mese all'insegna dello sport e delle attività culturali che si concentreranno sulla capitale con eventi di musica, performance artistiche, sbandieratori e incursioni di freestyler. Fulcro dell'attività della UEFA sarà il Football Village in Piazza del Popolo composto da due macro aree, in una un palco dedicato a spettacolo, intrattenimento, musica e iniziative culturali, due maxi schermi in cui verranno proiettati tutte le partite di UEFA Euro 2020. Nell'altra macro area, organizzata come uno spazio fielistico, sono presenti stand gestiti da diversi sponsor di UEFA Euro 2020 con attività di intrattenimento e prodotti gastronomici, campi di calcetto 3 contro 3 e tech ball aperti alla cittadinanza. Uno spazio ludico dedicato ai bambini. Per adesso le anticipazioni per quanto riguarda la partita di questa sera tra Italia e Turchia. Vediamo intanto le probabili formazioni, come l'Italia scenderà in campo. Una formazione annunciata è questa, con Donnarumma tra i pali, gli esterni nella difesa a 4, Florenzi e Spinazzole, centrali i due difensori della Juventus, Bonucci e Chiellini. A centrocampo, Barella, Giorginio e Locatelli in attacco Berardi, immobile e insigne. Andiamo ad ascoltare le parole del commissario tecnico Mancini e del capitano Chiellini in conferenza stampa di presentazione del match. Io ero fiducioso tre anni fa, lo sono ancora di più oggi. Abbiamo lavorato bene, abbiamo dei giocatori bravi, si è creato un ottimo gruppo. Insomma è tanto tempo adesso che siamo insieme e ci siamo divertiti. Vorremmo continuare a divertirci e anche chiaramente alla fine se riusciamo ad arrivare a Londra ne riparleremo. Però sono molto fiducioso. Credo che questa volta addirittura l'inaugurazione quindi è ancora più strano perché poi di solito se inizi che hai già visto altre partite, beh non male un po' è già passata. Iniziamo noi e quindi ci saranno sicuramente più incognite e più difficoltà ma questo vale per noi, vale per la Turchia allo stesso modo. Sarà una partita sicuramente, una grande serata piena di emozioni e la vivremo. Come ha detto il mister oggi credo che abbia trovato poi le parole giuste con la spensieratezza poi di un gruppo che sta venendo a grande, senso di responsabilità. Io aggiungo un pizzico di follia che in queste manifestazioni credo che sia un ingrediente che poi sia imprescindibile per provare a fare qualcosa di grande. La voglia di rifarci, di rivivere un torneo, una competizione internazionale da protagonisti è tanta perché comunque la sconfitta di Milano con la Svezia è una cosa che ci rimane dentro e non la potremo mai cancellare. Però credo che in questi anni siamo stati bravi a trasformare magari quella delusione in tanto entusiasmo, in tanta voglia di far bene e io sento che questo sentimento non c'è solo magari in noi che l'abbiamo vissuta sul campo ma proprio in tutti i tifosi di questa nazionale. Non avete idea di quanti persone, amici, conoscenti nell'ultima settimana si stanno galvanizzando in attesa dell'arrivo della nazionale di una manifestazione che manca ormai da cinque anni di viverla così per tutta l'Italia. Quindi lo sappiamo e veramente noi non vediamo l'ora di scendere in campo e di vivere queste emozioni tutti insieme. E tornerà anche il pubblico sugli spalti perché allo Stadio Olimpico questa sera ci saranno quasi 15.000 spettatori pari al 25% della capienza dello Stadio Olimpico per un europeo dunque che segna anche la riapertura degli stadi in tutta Europa anche in quei paesi come l'Italia che finora li avevano tenuti serrati a causa dell'emergenza Covid-19 che sia speriamo un segnale di speranza per una riapertura anche in vista del prossimo campionato di calcio stagione 2021-2022. Ma a proposito della prossima stagione di Serie A l'Udinese che si sta organizzando, sta preparando, sta mettendo a punto il piano il programma per la prossima stagione ripartirà da Luca Gotti anche se manca ancora l'annuncio ufficiale. Ci colleghiamo con Lorenzo Pausa dall'esterno della Dacia Arena. Lorenzo. Eccoci Francesco, buona giornata a te e a tutti i nostri telespettatori. Sì, ancora non è arrivata l'ufficialità circa la riconferma di Luca Gotti che però a tutti gli effetti continuerà ad essere l'allenatore dell'Udinese ormai la proprietà ha deciso quindi ogni giornata da ora in avanti può essere buona per la firma definitiva perché no anche quella di oggi. Mancano ancora gli ultimi dettagli da mettere a punto che sono relativi alla composizione dello staff tecnico però ormai ci siamo quindi il tecnico Veneto dopo aver guidato l'Udinese per tutta la stagione appena conclusa e per tre quarti di quella precedente come capo allenatore pronto quindi a continuare questo matrimonio con il club bianconero con un'attività sportiva che per quanto riguarda la stagione 2021-2022 riprenderà, incomincerà tutti gli effetti all'inizio del mese di luglio quindi ancora qualche settimana di vacanza e una volta posta questa prima pietra relativa alla guida tecnica e al suo entourage allora ecco che partirà anche la costruzione della nuova squadra. Questo allora per quanto riguarda appunto le basi per la prossima stagione ma ora uno sguardo anche alle nazionali perché sì come dicevi ben tu Francesco incominciano i campionati europei ma ci sono delle novità ufficiali che interessano l'Udinese sul fronte della Coppa America perché Musso, De Paul e Molina sono stati tutti e tre convocati per gli impegni della nazionale albiseleste nel mese di giugno si comincerà lunedì contro il Cile per la rassegna continentale sudamericana quindi tutti e tre i giocatori hanno passato la prima ampia selezione di 50 giocatori e sono rientrati anche nella lista ufficiale dei 23 davvero una bella soddisfazione allora per De Paul, Musso e Molina negli europei invece con l'esordio dell'Italia questa sera alle 21 contro la Turchia domani invece spazio a un altro bianconero a Struger Larsen che con la sua Danimarca alle 18 affronterà la Finlandia a te grazie, grazie Lorenzo in bocca al lupo dunque a tutti i calciatori dell'Udinese impegnati nelle varie competizioni a Struger Larsen per quanto riguarda il campionato europeo e a Molina, Musso e Rodrigo De Paul per la Coppa America con la maglia dell'Argentina erano già parte del gruppo che aveva preso parte al match di qualificazione mondiali contro la Colombia adesso invece parliamo di basket perché stasera c'è il primo match point a disposizione dell'Apu Old Wild West dopo il 2-0 nelle due partite giocate e vinte al Carnera contro Scafati la semifinale arriva a gara 3 si gioca però in campagna Lorenzo Paus ancora primo match point per una storica finale la posta in palio è alta per l'Apu Udine nella gara 3 delle semifinali playoff di A2 in programma stasera alle 18 a Scafati i bianconeri forti del 2-0 maturato nei primi due confronti al Carnera proveranno a chiudere la serie con un percorso netto per raggiungere l'ultimo atto per la promozione in Serie 1 dove salvo improbabili ribaltamenti se la vedrebbero con la corazzata Gevi Napoli la Givova Scafati di coach Alessandro Finelli sta però dimostrando di essere un'avversaria tutt'altro che morbida da affrontare in gara 1 e gara 2 non ha mollato di un centimetro tenendo sempre il fiato sul collo di Antonuti e compagni che pure hanno avuto il merito di togliere dalla partita le due stelle americane Gaines e Thomas alla fine a prevalere è stata la tenuta fisica e mentale degli uomini di Boniccioli che sospinti dai 500 sostenitori tornati al Carnera dopo mesi di restrizioni hanno saputo mantenere la giusta freddezza nei caldi minuti conclusivi dei due match per portare a casa altrettante pesanti vittorie il tutto con un collettivo in grado di mettere mattoncini fondamentali ognuno con i suoi personali punti di forza la solidità di Giuri, i canestri da lontano di Amato la difesa impenetrabile di Nobile Italiano entrambi in grado anche di alzare la loro media punti e le giocate di Dominic Johnson che nei momenti che contano ha confermato di sapersi caricare la squadra sulle spalle ci sono insomma tutti gli ingredienti per continuare a vedere una serie apertissima tra due compagini combattive molto ben strutturate anche i tifosi campani sono ora pronti a far sentire la loro voce per sostenere la loro squadra ma se l'Old Wild West riuscirà nel colpaccio Udine tornerebbe a vivere le emozioni di una finale per la 1 a distanza di 21 anni l'ultima volta avvenne nella stagione 99-2000 con la neocostituita Snyder e in panchina guarda un po' c'era Matteo Boniccioli Velocemente i programmi di oggi i telegiornali sempre in diretta poi il pomeriggio calcio oggi parte anche Eurofocus con la nuova noce notte alle 15.45 questa sera 10 anni di noi e poi tam tam alle 22.15 vi lascio al meteo alle previsioni di 3B Meteo io mi fermo qui arrivederci e buon proseguimento con Udinese TV Amici di Udinese TV bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di 3B Meteo ci attendo un venerdì ancora un pochino variabile ma non lasciate spaventare da questa immagine è vero che in giornata qualche acquazzone e qualche piovasco si formerà ma si tratterà di fenomeni davvero di breve durata magari un quarto d'ora di scloscio di pioggia nulla di più soprattutto nelle ore pomeridiane nel resto del giorno non mancheranno ampie zone di sereno entriamo più nel dettaglio Udine e Pordenone con anche qua il rischio di qualche breve piovasco nel pomeriggio ma vedete temperature da inizio estate massime vicine 30 gradi al sole potremo anche toccarli e superarli stesso discorso per Gorizia e Trieste quindi giornata comunque discreta però qualche acquazzone ecco si potrà formare in giornata nel weekend invece la probabilità di questi temporali diventa bassissima insomma fine settimana da piena estate per tutti i dettagli comunque sulle vostre località scaricate l'app di Trebi Meteo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti